Mister, è l'ora di fare un'inversione di tendenza, no? Sì, ora soprattutto per quanto riguarda i risultati, insomma per l'ennesima volta usciamo dopo un'ottima prestazione con un risultato negativo, quindi in questo momento è proprio il risultato che manca. Abbiamo fatto bene con l'Arzachena, pensavamo di essere usciti, ma in verità da una situazione negativa abbiamo continuato a fare ancora bene, abbiamo preso purtroppo un gol gli ultimi minuti come ci capita spesso ad Arezzo e quindi adesso in questo momento ci interessa il risultato più che mai, l'ho detto anche ai colleghi, che in questo momento voglio pensare di essere meno bello ma più efficace, dobbiamo stare molto attenti contro una squadra in questo momento in salute più che mai, che è la Propatria, arriva da otto risultati consecutivi, positivi e da quattro partite che non prende gol, quindi sarà un osso duro ma noi cercheremo in tutti i modi di poter portare a casa i tre punti. In conferenza stampa hai detto che bisogna allargare il più possibile il campo. Sì, loro sono una squadra che fa molta densità, al 5-3-2 con i tre centrali stanno abbastanza stretti, i difensori e anche i tre centrocampisti, quindi dobbiamo essere molto bravi con due attaccanti che qualche volta andranno sugli esterni, con anche i nostri quinti di destra e di sinistra, alzarsi molto e incominciare a pensare di fare un 2 contro 1 o 2 contro 2 sugli esterni e gli inserimenti della trattaccata dei centrocampisti su palla sul fondo, può essere questa un'arma da dover sfruttare al meglio. Condizioni di salute della squadra? Ma questo è stato anche un po' il dilemma che ci portiamo avanti da un po' di settimane, non ho potuto mai mettere la formazione in una certa maniera, derivati anche da certi infortuni, ma abbastanza non solo muscolari come l'ultima di Riccardo Forte, non l'abbiamo avuto ad Arezzo, però chi c'è diciamo che sta abbastanza bene perché arriviamo ad un tour de force incredibile come noi e anche gli altri, però purtroppo non abbiamo potuto cambiare molti giocatori perché appunto con gli infortuni, quindi ho chiesto ai ragazzi l'ultimo sacrificio, questo poi si faranno la loro settimana di riposo, anche se avremo degli acciaccati domani, insomma l'ultimo sacrificio per cercarci di prendere tre punti, di mettersi una classifica che comunque non è bella, lo sappiamo, però almeno ti dà un po' più di serenità. Vorrei vedere una squadra gioire eventualmente perché ultimamente le gioie sono così poche per quello che fanno i ragazzi, mi piacerebbe vedere una squadra come al solito che in campo lascia tutto, una squadra che ha nelle sue caratteristiche anche un modo di giocare propositivo, ma domani tutto questo magari lasciamogli agli avversari, l'ho già detto e lo ripeto, di essere meno belli ma più efficaci perché domani punti da domani, cominceranno ma domani soprattutto conteranno molto.